E' facile dire Dio ci ama, tutti lo diciamo, ma pensate un po', ognuno di noi è capace di dire sono sicuro, sono sicura che Dio mi ama e non è tanto facile dirlo, ma è vero, è un buon esercizio questo, dirsi se stessi Dio mi ama e questa è la radice della nostra sicurezza, la radice della speranza. E il Signore ha effusso abbondantemente nei nostri cuori lo Spirito, lo Spirito Santo che è l'amore di Dio, come artefice, come garante proprio perché possa alimentare dentro di noi la fede e mantenere viva questa speranza. Il nostro vanto più grande sarà quello di avere come Padre un Dio che non fa preferenze, che non esclude nessuno, ma che apre la sua casa a tutti gli esseri umani. A cominciare dagli ultimi e dai lontani, perché come Sui figli impariamo a consolarci e a sostenerci gli uni agli altri. Grazie. Grazie.